Come me penso che in questi giorni tutti i miei compagni abbiano pensato e ripensato a chi metterebbero nell'inferno. Ci siamo scervellati per trovare una categoria adatta e una pena altrettanto idonea e ci siamo chiesti e richiesti come trovare un'idea alternativa e originale. Spesso, qui parlo per me, con risultati scarsissimi e un umorismo pessimo. Ed è per questo che sono giunta alla conclusione che si fossi Dante metterei nell'inferno i professori, che danno questi compiti, sì, originali e alternativi, ma magari per le persone più timide molto imbarazzanti, mentre per quelle meno fantasiose molto complessi da realizzare. Ed è per questo che, come in vita a misura disagio i loro studenti, ora sono costretti a raccontare gli episodi più imbarazzanti della loro vita ad un gruppo composto da soli studenti che li delide e li bullizza. Ciao!